Buongiorno raga, dopo un mese e mezzo ho finalmente aperto il profilo e cercherò di difendermi un po' da tutte le offese che sto prendendo causa vari post, causa vari post stavo dicendo che ho pubblicato sul mio profilo anni fa e come prima cosa ovviamente chiedo umilmente scusa a tutte le persone che ho offeso e che non conosco e chiedo scusa soprattutto a Niloufar e a Lara, soprattutto a loro perché i post fanno veramente schifo e mi vergogno veramente di quello che ho scritto quindi io spero che voi accettiate le mie scuse e adesso facendo un discorso un po' più ampio, raga state offendendo i miei genitori, mia mamma, i miei amici e sinceramente io ve lo dico perché mi ci trovo dentro, state sbagliando perché prendete esempio da me che ho sbagliato, ho capito, sto chiedendo scusa, insultare e offendere non porta da nessuna parte e quindi non predicate bene e razzolate male, insomma non fate come la nostra amica De Yanira che predica bene e razzola male in quanto lei vive di provocazioni, illazioni verso gli altri, ha offeso comunque tutti noi durante la messa in onda del programma e noi non eravamo neanche in grado di replicare appunto perché non potevamo utilizzare i social però De Yanira può tutto perché lei è pagata per questo, quindi grazie De Yanira e come mi dici tu, ma tutto a posto?